Parte dal ghero la nuova avventura della Dinamo Sassari, vice campione d'Italia di basket. Le tenute Selle Mosca ieri hanno ospitato il galà di presentazione della nuova stagione dei giganti sassaresi che sono attesi ad una conferma di quanto di buono fatto lo scorso anno con lo scudetto sfiorato in una finale tiratissima con Venezia. A portare i saluti della famiglia Moretti, patron dell'azienda, il direttore export di Selle Mosca Davide Champion che ha raccontato il presente e futuro di un'azienda VTV Nicola che quest'anno compie 120 anni. I saluti istituzionali sono arrivati dai sindaci di Alghero, Mario Conoci e di Sassari in anni Campus e dal presidente della federazione italiana Palacanestro Bruno Perra, dagli interventi quelli di alcuni sponsor della formazione Bianco Blu, dal direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cucurese che ha ricordato una partnership che dura da 30 anni, a Silvia Del Sole, responsabile comunicazione e brand di Reale Mutua, ma anche Rossella Iandolo di Air Italy. Quindi si è passati ai protagonisti sportivi di questa avventura, dal coach Gianmarco Pozzecco al suo staff fino al roster con in testa il Sassarese Marco Spissu e il capitano Jack De Vecchi. A chiudere la manifestazione il saluto del presidente Stefano Sardara e del vicepresidente Gianmario Dettori. Non voglio regalare facile ottimismo, però devo dire la verità, mi sto affezionando a questi ragazzi ed è un sintomo per me importante perché non posso prescindere da questo e quando chiaramente tutto ciò accade poi sono anche automaticamente ottimista, però insomma il cammino è lungo, dai. È anche vero che abbiamo costruito una squadra cercando di mantenere un assetto che ricordasse o che comunque fosse preponterante i giocatori che avevamo l'anno scorso e sta funzionando proprio anche per questo motivo, nel senso che i giocatori nuovi sono aiutati ad inserirsi da quelli che invece c'erano anche l'anno scorso. Quindi il mio sistema di gioco, che non è molto complicato, viene spiegato e fatto vedere in campo anche dai compagni di squadra, dei nuovi che invece sostanzialmente non erano a conoscenza di quelle che sono le nostre regole.